L'Azzurro, benvenuti in collegamento da... L'Azzurro è a Omi Ancon. Omi Ancon è la famosa, famosa, famosa per il modo di dire, ma comunque famosa, detiene il record assoluto di villaggio abitato più freddo. Per l'Italianco è più freddo. Per l'Italianco è più freddo. Detiene il record di villaggio più freddo del mondo. Per l'Italianco è meno 71 gradi, punto 2. La temperatura è scesa di parecchio, piove. Ah, la temperatura? Sì. Pioviggino. E quanta temperatura? Se ciasi? Devinazia. Ah. Vedete, là ci sono le case degli animali. Ah, radiazia. Radiazia. Cocchia. Eeeh. Ora andiamo a mangiare, a far pranzo. Spassiva Valsoia. Mozna? Siamo a casa della padrona, qui. Sì. 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 Sì.